ho tutto sul sello ho tutto l'abbiamo mo ringo connessi nino patty nino double a giver hola will be conciitore lori platform abola giver un record a real man sat no recording you understand motolamoporto show no page abba la gibra you understand so what's once again will be concluo i won't story yet see google i would agree i'm gonna give me want to crew near the boy out or you know i'm so much also though i'm gonna give you understand so but i want to show you something now the lady she's crying seriously you understand me she's seriously crying and it's painful, you understand me she's crying seriously that is Yahweh that to tell you that whatever you cause at times now is you know I don't understand it's not going to fail you know definitely that when I talk I don't always criticise but I love progress of people but you know what I don't know 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 a lot of people I don't know you understand me so a lot of people great job you see and she's paid me like she paid me like she like I get my book what about she because this thing that will party chatting what she paid me like what you can repay a lot of people are doing a lot of things on that social media so yeah every page you understand me leave my page low okay leave my page low leave my platform low they open my page they open my page they lock in it they open the lock in it no I don't understand so I saw kill or call baby you touch you can pay anybody yeah because you can you see you can 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 I pay you can you you know I so you know I you I I I I can I I can I can can I bambini oma bussini ma bambina oma bussini i let me oma media oloci govano more like a false time to my comments are barely first time jennifer la polaccia demacor comments are barely oh no only any confess supply me i'm a model so mother supply model so me and moco i love that, very good, very good, very good, that is nice, first time, like, you know, of course my friends and friends that are struggling. ma i i the i i i we i i i gli stessi ma c'è campè fu e pisi ma di morrisi ti mo fiche con i c'è te torri owo i c'è nì anna lara i c'è ti mo de s'è fù ti mo se torri s'è jè nì i morrisi torri a un mò garage ton di quel lumi a j'ajem si a te a un mò basi u nè i c'è a mò tò de kò di uonon dè nì o t'yè kò di che pò a revenge but at least for somebody to be free from this calamity and nonsense all right so e si pè di misle avesso part 2 of this ehmm ehh ehm ehm a he ah no 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 house li ho ridere in corso di ridere le persone e sfermente gli altri se non è già bella non è già bella se non è già bella e non è già bella se non è bella se non è se bella la mia nara non è non è se non è se non è se non è la mia non è non è all'incompo loro non è un problema non è ne se non è carico la mia la mia facoltura stai come and sit down come and sit down come and sit down come and support don't don't we're not here to tell you everything is ok any time you are ok we said I am soft only here his name we should listen no 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 that is robic ok perché Ma io non sei accaduto, non è accaduto e nonY e ne vieni, non è accaduto e non è accaduto, non ciò che ci sono le cose velo, non si in concluzano, non ciò che ci sono i problemi, non si è li accaduto e non a cuci, non c'è l'unico di conto. Ma non se le ci sono di conto, è accaduto, non ciò che ci sono. All right? Ma noi lo diciamo, questo è l'unico che gli aikilati, quindi un po' di conto sono oggi nella Teresa. Storia per la vostra. Storia per la vostra? Storia per la vostra. a un po' passato con pleine pavano le tue che buco buco su a già polista giro traggio migrazione già tra giacchi e forse giro su a giacchi m costa media to a jack many departments in Nigeria suono passale in nomazofono ma si che 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 chiamo non bere che che la traccia paroco to padre batto lomba tabati complessi no, we are not saying that, but that in that you are not saying that, but that is not saying that, but that is not saying that, but that it's not a good thing, people that does, that normally do good to people, they don't torture you, they won't do that, so I can't do that, so I can't do that, I can't do that, don't put great stuff around, so that why, we're not, David, we can do that, and how we did this all of these будем, to me, as a, how I am a mother, a little symbol, FOREVER SHE WELL IF YOU WANT TO YOU FOR Mohir, if you are not дом, you can't buy your phone so it can not come out, the maladies are magnificent, mother, herself, she is not OCD, but every io non lo spessimo non lo posso ratificare se non mi funzionero, non lo posso ratificare se non mi ti prestemere e non mi sciences grassi nella Revisione e nonุi nas testati come uno z non mi pensavo come uno sia sia stato 125 quando non ho 68 io non ho manguy idea io non ho can Mendibia non lo ai proprio non mi suche sono 온 loro so i am dentre che mi creiamo doverta con i am� todos so, non i am momenti ừa dire I'm not saying this tommo raro motone on reds when you come see me should see a niba time when you see man go to sit i pay or to are you and come up a show wow consider to myself it won't let me call in a gear order order way on me one one minute every month the only jury come on for me every 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 month every month every day for the four for many years and for social in Nigeria no no non c'è nessuno non c'è un po' ma senta moti ova novo stop oppressi oppresso niente in moto con danny quasi pocao lei e wa forno e che fu a walk on how come enjoy your son is evil tabu tabu ni so and the body of course you on the partial area come by yeah the penny effect kini amada basini bene i want to party share pasta to my sister london mi ho unite non ti sti non ti stai tu ti sti tu ti sti tu non fall into termitos non si mani temi si non si tu stai se ne vora non si tu二 se ne vora i miei attitudini i miei attitudini i miei attitudini ed è A대ice E Aignon B Alla E Ma questo termine, we are telling you nothing but the truth. Non so le fumo, non so le fumo 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 non so. Non so le fumo 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 non so le odio mi am sat lima con di office e servizio minuoni abio fisi a bala gabriel ma god office in a moco a walker to cool your mam's up to cover about a given to cool we do have a go cool we give a go cool about a good lady day ma come la balagra per capso bene l'olio d'orio membra si come la rio messa togbe nobile we did oh joko a palagra baby lady oh what's one of you cover your fabola giver show lo nini public funny Thomas a public phone body che riposito non lo fullo lato come organi artista no son domani venia coulda di bemo for lovani quando si come a lei donna si for lovato si come a tonpo not idioma to the Gio show one or the middle one si vosso polenta flow atopoli creato for you know killer da si what I was over to last so con le gbe, muidin soke, tofè pa muidin. Shade by beating muidin to dead, lo manje con repent from. Poi yote, mungu avu lò, tete. An tete ton notanye, iya won si owanke, owanke bi enu, owanke bi obo. Ah, omo fè pa da sese aro. Ibotto o le je ki, uonon muidin, pa lè yitoum vè lo, muidin lati goke. Da lè di sese a yusa. Ni piki ni on, ni ba tan se wè di, mo li pichon yon ton poste e sori, a mo pe jikon. Mo a wik pe ye lo, shiki lo wo. Ki mpo si ki ni bòti. Mi ufè e posti wunan sori platformi. Toi mi uf, mi u, mi uke, mi uka un koti story, mo ti si on kon konto she. Bi muidin gano in mi begini, because muidin talk, muidin ori muidin pe. Muidin, ori, muidin ori e, ope gong, ori e pe pe ori ala janshomolu. Ani to de jelè soro muidin, muti muidin jè. Oma jè ki, ka ba la gebre foun evi bodi. Ni bògbo patikula li le won, towa ti walo wè. Patikula zi mwon, bògbo ilè so kon foun yon ye, tori poplikini ni won fiko, kon foun patikula zon. Simple as that. A ti suwe bebe. Suwe bebe nò kon foun ni patikula zè. Ijabe jomara ye le. Bògbo won ti patikula zvati walo wè. Kon foun wò. A a. A won konon lo foun unan, won de nò pa. A won konon nò fè che vise avun wò, nò pa nò. Che won fò le tini. Ki nò wò che foun, bò won kon lè ni lò, tori poplikini foun lò wò. I know some people, tori poplikini foun yon lò wò, won ti mò ha kwen lè wò, nò kwen lè wò, nò kwen lè wò, Bè mi nò, ti mò foun yon lò wò, mi ho vè kon beri lò wò, mi ho vè soffè, mi ho vè jè kwen lò wò, mi ho vè jè kwen lò wò, thank you foun mi. I do many things to people also, ti mò ni, i vò ni mò ti ho konfè nò foun yon konfè nò foun yon lò wò. I do do it also. If you have to, and I've been preaching for a long time, did I ever build church for myself? No. But you're not just supposed to push my long feet, push me. So now compare if I now have the money, like, ma wò ni o wò nè, bo yam mò ni o wò, abim mò wò nò wò nè, po i po kwen, mò wà jè, i jò mò wò nè, po kwen si mò lè, mò nè, sè si o wò, biwa, i mò lò wò nè, dhriyà to, a mò kwen tò nè, tò nè sè si, mi ti ka 100,000 do, 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 si eh, mi ti ka 50,000,000 do, lò jè di, yò nè sè wò nè, but I'm giving things towards millions, en si o ba ni, ti o chè ni 20,000, lò jè di, habite 10,000, lò jè di kò, to your millions, 2,000, 1,000, fù yò nè, to pa ni, to me, i wò, i wò du mò dan dà, uò nè, do you think it's easy, for you, wò, i wò, si jè vu de, po, a to pu, tak watà, dè, tò mò, to o, to mò, i, to mò, to mò, to fio, con, xin, kò, pi, bisè si mò, nè, no, mi ni, mi, 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 non 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 mi e nyo tolipo so le fun ma bai e nyo tolipo so le fun ma bai e nyo tolipo so le fun eg mai dam albala gabre te domin öFg unilati no no o le l'indicate get people won't sliver what am i believe really non is on the floor motion to offer a lot of people don't flow ok a little party she that I look down with me walk in the book ever maybe in the beginning that guy into a oh she created people Korea un po' di la bebregge, come a ripeto a me da ti, come a te lo bebo? O un a ti mui di non, bui di non ma, o support la tu bamba a che. Kijè mui di niko lo da ti ju, o ti beba bà con di to e peba bà nye, o ti pe ne a bebregge bà je bà je. Eventually ma yenda oku, uon koko toge won bo yon spito, eventually ma yaku. A wang koko too Muwa uyo, a wang iju a ta wang ba maha cha, wang a badigba ti ikili, koishi me na nyare po mwde, bo ta wang arubu yen ignore sviju, a ta wang mi yon BRU. Awe den ma hyabbo, I love di ishe na, despa ipe, mpa toa ha mess up, ta wang frakampi pot ownership, because hormane fe ajak ajak ajak. I see a viz video on my phone's book, did I delete it? di dire adere che che chi chi c è è ma non è è che sono o io sono fico sono loro hai inkling loro non 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 si vede a non essere capace. non si fa mai essere capace che vorevo in quanto siiele. dovrei essere capace e le schiavese, dovrei fare tutti i nostri spettatori, dovrei fare tutti i nostri spettatori. non sodassi che i nostri spettatori, ne fa fare più come si pensa in quanto. e se si vuole arrivare, non si vede, mi deve essere riuscita. è mai un'es Mediae che si può essere riuscita, non ci si vede di loro. si è volto a Gabriel in 3-4 years ago si è volto a me you don't look down on people you don't matriam people because you are better than them today or because you are richer than them don't destroy them that's what I'm saying oh that's what you put on here Bible mille more money on a model I'm a little guy you could like with you could only like a letter school is pennies pay I get to me the lady oh cool like oh what you don't invest now you do this show what's going on ah oh my I don't want to call it I don't want to compare it on you don't want to see although I'm not given what was sharing about I give it what my shepherd who what I am only wants to be 30-40 cow abeco one of us should be back to our two morning in the show scene as you know I'll be back home when you come and all your quest of baby 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 fucka materly you play my book to my very much as a man show non si vieno si l'ho maggiore si ma buona te l'ho e tu m'ho fai o si si m'ho o si e m'ho ango tu son con te lè o kwe i n'yè de so kwe te lè ilè n'yisho ambe shabu yin n'ho an de n'imbalo woyin ilè n'yisho ambe shabu yin n'imbalo woyin omo bine n'ho ulo kufè te lè uo fè te lè uchè a mi kone ese aro, ese aro koma pa da se ese aro mi wai bo xiloyen e n'i kone i n'i kone i n'i kone uo fè uo zi bò bò nye i n'ho fè trash i n'i ready to trash she's ready to trash that guy for anything she's ready to to trash that guy for anything i want to kou ju si a kou la gebo e ton shanfu ton ton la run lo one lè lò nà wutu lè lò a wantou one lè lò wantou lè lò lè lò mè n'ho toun dà juon lò la ti shanfu no ah ah che come a coltano spales spiel it call dalla you it cupola i quattro i watch the upper one you let it affect neck yeah we always cost a lot of problem in lot of calamity to get going edit on a modality things are not good we supported it as if it's good and then I'm at my job non c'est l'aplice si è questo Lati no. Lati no. Biè nimi a kpapè yè. E uè a reni. O lo mo fè com'a no. O lo ma. O lo titi kwek genjade. E genjade toto. O no. Ako la gebre di boboi yè du. Ako la gebre lo lo doi. O wo ti ako la gebre bati do lo wo le ne. Ki ni so uè lo no. A no. O lo no shèm kone. Pe o boboi toti shè. O tri la wè yè. To ba le to ba shèm kone to tri la wè yè. To jè kà wè yè. Su mwè. Ton vè fèm rè. O to ni mwè shèm kone. Sa wè yè mamma vi kòlila e. O wo kèdele to ba ti. To ba ti nte sò wà wè yè yè. Pupo. O man jè kon nik bi laka. A da da to ba ti jèpà wè yè kò lo shishè o wè yè. Tè ba le to shishè o wè yè kò gò fùnare. Fùnò kè nik bi laka. De used to be o mbo. Xè rè yè. Nto ba jè pè mwò kòlò. Dwe sè le wà yè. Mwò kòlò fùnare. Lare. Mwò fùnè. Kon nì. Ok mwò kì. Mwò kì là nù. Mwò man nì bè. Mwò man apprezz a wè yè. Mwò man apprezz a wè yè. O di tò cha tiè mè kò. O nò undè wà tì bà fùnè nìè. O nì là ti mà shè kò bùrùkù. Tò ma jè kì. A bà là gè bè lò kò kò chà di. Tò wà sò fùnè kì. O mò kùni yò. O shè yè yà mè yà mò. O mò kùni yò. Mò yò shè bà kò fùnà wè yè. A de tì bà xò bùnò wè yè. A tì bè fùnò wè yè. A tì bè fùnà wè yè. A tì bè fùnà wè yè. Tò sorò fùnù. Tò tì bò bò yè vè yè. Tò kò dè mò uè yè. Shè yè nì a wò sì. Shè yè yè kò bò bùnì. A bò bò bùnì. A bò bùnì kò tì. A bà là gè pè nì. Kò ma kò siè yò wè yè wè. Kò ni kò ma controlè. Kò yè wè wè diogalò lìè. Kò yè wè mà shè n'yè mà n'yè mà. Kò ma sou yà rà tò tò. O dami lò jù. e non solo we cantono lo cantono io ma la la amore tosse it's in mui di wani nuè ben yushe wali mui di nye shanye nye riboshe wani chon e nye ribiani ti owo la owo toda wala reni every now it's not looking good bo mongon tosse no den koda o i ra wabru ku koda koda rararara omobri nye i wa wang ken se olo go diga go diga omopo lika ni nin yonye nion nin yon she weti mocha ali mui di gbeo ni silano si loo ue si loo koda e shanye po si loo koda ojo toma pi ok o ojo e jo boya pata di ila maso baya pata sqibre ko bai yu ko bai fo nufun o kwa ko nte batu tenu bani bode eh mato d'o o nye koto mashi fo tony mamah tony mamah www.mesmerism.info un gioco show di bobo by polio le io momo i won't got it so it's a pay in on your money rara so padre jade bobo con leo brito a toppone to teach you all the problem here what the master professor you don't see me tell me about the simple by you know when it's a motion walk or call your to control your own back for to love to share for control no wonder be everyone i don't let touch anybody who will man jackie contatto so what about what's your problem over there's more to the nosey you can order a joe a get to your own Mickey lingerie nico let you want to school we didn't say clever boy only think about you only me call a yellow melody what would you have with your quindi qui il io è c'è la ciotola secret tomorrow no total muscle there's a lot of secret to a bear every ma won't we did be we will see over paracetero to my man uncle si mamma fu nico come ok ma dottio ambele in tupo let me tell you to my jaccia can't ever go no cool see i got to meet you only to find you very low bed most of you to my jaccia can't ever go no cool see what's on me what's on baffini orate find me know what she said that you got to work on she for you know kill answer to a soul ever get a my son of a jail you know doubt me risotto per my answer me to see a ori capo capo come on a sorrowful cover over mantu version of also got to show you son of the life is a big boy is a my jackie on a big mechanical machine mechanic is a my jacket on a big way ma cio chi si evo e ishi a macchè siccino che effuso non si è super sì non si è solo un'evolta, non si cosa fare, non si significa che che gli usano fosse della vita, non si so, non si sta più grande. Alla cosa face in casa non si fa, 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 i di detto che non cercherà il fatto che non ha detto che non c'è un'imprimente ma è una specie dove è una specie, ma di essere un'imprimente, ma non c'è più gli altri, ma non c'è nessuno e il rispimento, ma non c'è nessuno anche il rispimento, non c'è nessuno che vede. Cioè la mia ricordazione, essai un'imprimente, allo stesso non c'è nessuno, non c'è nessuno chi 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 come and you're saying you know he's not looking well as it's not working show the king of kira soon you understand me because of a weapon in fact in that worry what's the baby food I am is that bear yet to worry that's what the way I used to think okay tell me about it a bit worry mama okay to better pay me mama no better don't know I don't want you to talk to you on learning so don't let us see ourselves if I know but such a and so general any what don't you know we have a little bit ah mo I'm gonna see you're about to be that I will be on what about what one night you know I'm only got a skin in one of the epic or any mama pay more flow or the cause I look it was one of fun I look at the corporate icon I don't think you like it look at him today I mean look at that today she crew she's okay it was a clear see my whole point so you know I can especially my dad and I don't want to call you name all of the show really traffic frequency I think so we're gonna see to teach you with a four point to fetch a little boy mama 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 no potato to me of all my dad to bullet no to me come and look at me me never do not see anybody consider probably my job we got to stay today they fight me oh go to son you do you want to support him what's it yeah you have to discuss something concrete what am I just a cliche but what am I not something pastor my son from a door this is my not one of my father's bad with I believe only bad what you bring to do I am a cool woman with a bad water to 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 love you over come back to II coco-zway haha for you know whatever I want to be I need now to suck it before the lonely shall you pour negation for the beginning do you have the fear of go away libera grande so che wonky alimache bagnate check of vene c'è di shoppano si lo fanno lo vido bocconi da bocconi con le torsione pari appunto non è chi bocconi che voto su foto su che già detto su povecciate lo ovelo ma barro come le rona tomate a tetto legge lo to bello toro lo con le per l'akilo di ovo le wako ode nile chi se bo con con l'ogun chi se bo con l'assassin pa mi mò toto e bè nye kò nuk dè tisi kò bò reto che fu nye kò riman piko mò toto a yè mò provo kè mò da mò a yè mò jè kò kò e bale kò wali ren bè mò o wali vichà o wali pè koma nò se mò mò nò bè te lè ni mò nò for what why kido vè faradara da tòng si a pa la gribe nè mò ma nò hapè la gò i tòm fà nò cè bo i tòm tòm dòm gòa nò né for you beating somebody a dàli passo toh da fi dwello lò dòri wè kè nè mò mò rizy of the hay sò da mò bà mã onthò tè da whò fwè nè kè mi tòm dò dò tè nò kè mi fò nè a mò kò kì sò mò oriè a mò tòm fè lo wò nà là kòò soh kòmè lòri come a want to check it out come as you talk about fellow come as not one night somebody do no no sense i want to see maybe my reality abuela gabrielli oh no 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 Stando insieme a queste cose si costruite un piano e lo comodo. Si sono tutti questi bambini, che lo Kathy deve fare di quella nostra società. Si stiamo a scendere, io gli stiamo a scendere, io gli stiamo a scendere. Non si stiamo a scendere, poi si stiamo a scendere, nero e io gli stiamo a scendere. Mi boss does questo, e io posso fare lo stesso. A un po' di un piatto, il mio è uno di chiudere, mi ha scendere, perchè la mia stiamo a scendere, non ma non, non, è un po' di ma starsi. Quello che lei ha scendere, non lo di lei, che lei ha avangelizzato, lei sono un po' di no ma totale qua pari e lì mi chiamo tutti tutti e che sottolineci però no 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 vipiatra reno io con il tuo tuo cuore molto vero mi vio l'autobato da solo con il buon menio wonno si da solo io tolico forno but a subito martin gelo trattigio tingere ma tutti dati oggi dati ora si bella da qui ora si si è buco to palo to baloni torriosa per me di overfai a con london to palo nikona beton l'ombre si lo media di awe fujia guru con le lost america you day ono death sentence of a passy ori bobo non se zanina ijira you get to me so so me the by jenny the hate me the jello sale so we want to banila yeno a yeno a yeno non lo mi che te immagini posto petto da bagun acqua e la pagu bella mafisilessi intervattati la ye non loma loma la malo jabona ma jabona follow according to bible wurde possible shoot you may will possible because of the material to the man revelation to the te lo si transit il giorno da amore che i giocatori trebani coltua qua fuori alla qua fia barra tribo trova con il warma figeria la nuova si esistono powa tele un'eistico esitono un'amore 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 non la il 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 che chiamo ballone con la sua volta fermi buti moco et wickedness adico complico di un local cover by edge for fun ok bubano da wolfoni conversi noi tomatico so are you not to come a me e ma vissi goto down e mamma tossa won't ever teach a food be a barra uni a barra inco chi non preghi ok mui auto preghi donna leno kino so come i amato storico e l'automazione i wasprensionale resta di fumetti per amogu e set in moiti e supporta mito di tab e a mangiare la show fukura da masca piena sube e ma tassi muta tassima ho vita Simee Gorgos treman nobata scena anche da se ma super ricordi con chilo di rossi ad una chela se e il mongu mima mia le mammi mi anche ma si parla con la domanda solo moni crowd e le contesto le con e oppa la polona sono sempre moni crowd bai pomoni crowd li watch il nostro corso il nostro corso il nostro corso il nostro corso www.mesmerism.info 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 no no i do expose myself i never knew that a lot of enemy are on the social media so i was going to court i was stressed and the court two good years the baby also been in november for a moment cool in january 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 you have to go smoothly but conkey anything didn't matter anything or quote you have forgotten now they now start with me i was going to court but mommy she is so cool ah people need to want to talk to mommy i tell you my daughter will be stressed will be crying for the father that died the court in my lossy court will be trouble here in fact i want to go home i want to leave this place when i remember the trouble i went it's like my daughter oh my jackie bobo kini e koono sini be shiri ti but what you're saying it is better for me to be alive you can see you can see you can see what you can do with a i don't want to give you popularity on my platform when i talk about you let me tell you money sorry about president of our own president of my family i can tell you six president of my the new platform the great sea and mario because you're in bed most of the issue tenu shima money my jade one to end on the balance of my jade one i get in me of the posts you of the torripe Facebook you can test crowd on Facebook codice e p everybody on you real money more banto way you want it they wanted me told in the old oh no 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 so can't share the world in musical and work on the music i will call the melody what's it so edward to your long edgy cashed out and your money yeah we can't know what you bought you these days taba la bico coja tari pain in beacon how much battery matter about to non c'è l'unico bai con già ha ma che piccolo a valo l'anno ora don't know that one 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 two one two one 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 si le cosicola gramo a superwoman cotta la chela e io mamma con i seri botto mavala e molini everybody ma finissi moco sa mecce inyama sa mecce crema machete kangaro e to your love mobile inni ombria yaluri di betta go back home and go and love your husband if you add a more before for that guy to by that so by till a lover oles to yara complete boy only movie ok mama bossy play mama vedras be the one of our www.mesmerism.info oltre me ombra ok con il me a valore bene e bingotti ma lei già un poema tommo abonato a tecchi la roba amani sacchino fessa e checchi per mi si batu poche e anima le do popo tomato fui te pati mario e mappone si mari di fu e mappone si ma tu m'ho fui yo no am a play chai no le iso coi e donna che non si chava si le dove i mamma sono sono così, come la mamma il nostro canale non c'esta perché io amo io non c'è la chica, va a se vieta è che ti ti tabletsi? io ti proteggo! io ti proteggo in cusho io perché ti proteggo in tutto? tu ti proteggo? tu ti proteggo? tu ti proteggo il tuo cuore? ma per favore! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. no on this one and me on this place down in video and dogmasi a di bozo per toro to paramo on let go poncio win once wanna no but a see a good boy a me o I don't understand. What we do is I'm asking them to move for the boys better for their children as a fauna. We stepping in. Where we go as a teacher. Can't provide me with diabetes. We are living underkekbema. That's her my blood center. I know my child, but, you know, her son is a pacifier judge. This lady can write all the time. metti musica potenti e oh wow no ma about what's torture boy yeah we're not gonna say she's a problem she's a problem you know that book of mood is like a bit of a bubble come talk about the color wet what before y'all for what's telling a bad way book will be me sorry or me I'm sad to know to you wanna run by a better approach a don't you see me but you want to play once you check can't you want to want to share a killer look or not you wonder what's your issue she called on top of everything bad round she won't just be bad yet eh so long she's a lady did for a lot of work was the only one of the book on the video and what for your own you call my food you know in jail can you call my control father's in control or look for you know on jail or you know how you feel into a lake by my video non ma io ne va giù ti lovo a me ne va to lovo o a cheto o con te del dino dino ayer o a di palo to fermo bassino per se verga sono le padron o le ne a mora con quanto vi conto bo ma ti full offer se odio yavo yavo pastor ma ti lo sodo pastor i wasi kiosi amano like si paper so te wambè wanted a double mano non sensi me pull out most open low to that bullshit is what is bullshit eh? buoshit i ero happy people i ero 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 arrolo n e p P It is Research Crazy che per il bambino e che accor barrava perché bobolla jobbani no ori nessio bobolla jorino si può padre che cosa cosa so padre da noto ma di conferma che cosa che è lì e lì o chi è che si è stato stato con la copa la gibra che o di con lo chai di loro a shallare ma di lo chai di lo so rimediato shallare bambi di ripi ed bar wow con te sope one no è un sacco di no né che ci sono non è quello che fa è la città perché ci sono quando vuoi ci sono la scuola ci sono 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 no ci sono ci sono chi ne ha vanni che ne ha vò che per l'omino controllo chi ne ha vanni per ora be a toccato con tomano considero per l'omino ma è un controllo a will you feel a so brinca talk less of a coni e obede l'omino mamma è passiva che boccon lomang pasche a wala schottati siccato che cattava lompa che fu e lei a tomati fu yandere ogni totale oman giro con eleni tomate si da so forne oman pala non it doesn't mean anything all right we are going to tell you the truth oh compara me now a moto Jeff a star to me killer call game talk baby to get one new watch a leggeri moving by to love a billion water water barang by but I ammigai sovipè Tutoni omanciò che c'è qui è Omanciò che c'è qui è fuori Grazie a tutti. 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 troverso in serba da io secondo to pass a feel call to face a yo bobo to back considerate what you want to make fun of people you go show i can't hear you what's right if you come on here i might check Non ci sono alcuni iniziati ma cosa nel bai che sono profondo che mi chiamino abilione lo scori oh no oddio ogni me ne creo che il simila sonio mi ok enjoyed it allo si è un figlio o a frumillo ho fatto coltivo il giallo o bobo voor me o tre mi budget da second se con il cos in begini mo mo bo oh oh t was soft is a soft person o te co con share monetica il acte i ge un compagno bianco in poi continuale esecco la you via tigi ala to bad boss troving vipatrici in solitura laia con il filmi con disoni orgullo con le bambini che cosa mamma video e andrea ebra e non si è freddo porque entro ma con una roma una fundazione della mullerina lo risotto alla metà imato Nobel del maiğitore di un bel e per maggiore di un tipo di ma tutti perché quando il ma treat people, o ma n'jè che yon yon look focused, o ma n'jè che yon mislayer, o ma n'jè che, o ma pa dream, o ma n'jè che yon look infurity, o ma n'jè che yon ma le meke, a lot of things, o ma n'jè che yon look down, o ma treat, o ma treat e yon, ok? Tu o ba fife, o ma si yon laso, o ma se fone uogon, ko jè kwe jene yon ife, o ma e kwe yon ife, o ma n'jè che yon ma fi yon o yoni, o ma fife, o ma si yon, o ma jè konon, o ma fait l'expression, si yon ba eh tè yon, o ma n'jè che, a ma rì diwo, a ma rìgè non kò si ii wogon, o fa le li, o ne li, o non l'eanks phall, o non le manifest, si yon iè, si yon enf�� n'jè che, si yon ba eh ti nifè nifè, ntou yon fè, s'auto ntou, t'oi tugh e mon nifè, o si yon, o ma pa morà, o diè mamà pa blésien, o ma mor upon yè non, si yon le di nìè, she's demonized, she's demonized, ok, ma ma con le kibaba ma ti nike frio, ma ti fungi niwe ma ma atta kini o ma atta con i shop se topa wè lo felo fellowship di shoshi en se abalagi bè mani koma wolewa fellowship di shoshi kwa ni ah, mi vè pa da se se aro, es se aro reo es se osson reo, mi vè pa da si bello no, es se kini mi vè pa da si bello, es se kini es se aro ah, oti lè un baru ni pipenye o le mag baru, to pa change o le mag baru, to pa la fubashopo si vè yin o le meti a okun a bale, amè po nwa nori o wong, arashotoba wu adionchotoba wu, mba toba wu ino o, okun a bale konisopo wu alon da bonde ti mò ta wun egbe, mamà, wun egbe a brue wun magadu bale, wun magfun leg babi wè li nonsense o le e ti buru iwo brey yin o le e le nè ni ma ringbò toba fuen ti a wabwe, wase e gbe tebi ma fwoy le ti dano o le, fwoy le ti dano shon no eni a wati kbali wakun ni toe buli wa tono nwa bi e deателей ma ku honesty speaking mò kobra momi i e kwè wu Momi ati sisa da fika ha,assrani bo di ba fwati wafelwa jara baw momi niba in a mito ba tayo wa jami, wafelwa baw wa momi jabi black guy, kan kankankukua apiko try lati chikw Coron Sofi uun meni yo ngắmi i bi i go ouroon like protecti Posta a noi con noi con noi siamo e una cosa più con noi e un successo , e non è hai provato il exercito ripresi allora per quanto caso . Wouldi stare Oggi S anecdotiate Ing ALL ho un buon potente prosentestro wouldi stare tò dì pò a un o'caňtima è su tò du mò he, tò dè piñe, si tu abbandi che te pò da non si tu abbandi. Eh, io qui gio gulli e lì, bò manì di a wè e non lì è ora sa, eh la mava sì, qui è kekà, wà và dilè, wà di ti è, tu pa le lì di ti è, tuò ma ashe bila lò dolò lì buru kù? Eh, si a fare, eh, se arò le e oh, lì vè e cadà, lì vè dati e, è l'unico il il it's possible vietni ha po' shankato shanini e la seconda posizione no boboi e torsione noia domanda e l'adice domani su macei cheljali si benia onia pizzi di barabitco share a live in a pizzi ma will be a ruby su un popio rubies only girlfriend repetic o long body zero a better path along to last video bello o di lei ma l'isola siua a voler a loro venice casa mamma telle jamie amale il momento l'amico non piba mamma famiglia no mamma follow school on siam canadra subito zero don't want to happen we are used to it in our system essentially when you are christian when you are christian you don't know how to give are you a christian or not every question you know what is a christian so maybe sort of the world see only go and rectify yourself correct yourself thomas change mother say oh cool or a photo by living no back to the matter oh you know to be almost a personal to the bathroom come on to say 10 minutes you are not even details of perfect effect you have a little bit of a joke so show what is it about sort of a my temple to download to what you put a me on a support you don't want to see you see and this because surely brought us here for tarot come on the channel very talented you go oh not automatic bar from a video business come on get us a little bit more than popolo sottotitia edema colisano famiglia come and come a down that house of you are you are you are you are you are 50 or 60 or 44 you are making money so maintain your champion maintain it all go to the better way jambi by attack when he bought you more efficient issue original christian me the real one go to now and you are one of the two of us here to be the way to view and it's a good way to view it only included or sunny when you know it's a political 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 security the boy is is all I know a moment that it's a e o sta bon e li vedi to bad lady mattelco di noia william pa se a oio se può bali teori compagno e lecco non così poco fu ma leggi mamma ripi o con bobo to batisa bai amma 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 print down in goto che fu ma qui e e e e e e e e con il suo buco a sito bawa boccia web angetico basso basi con il sozita un freddo un freddo un freddo un pata pata con il mo a wadi presso di presso salò si noggia tra poti a willi dongo so william a pada one body depression lupa da l'officio sono soggie a tomba balobai in commercial alexa ma feedback o no c'è un vero luce vegetali not of this is a lot of other will don't never say never I never said to the collegiali in congello pericola che passano come in project with your own solution mistake so one ma dobbia che mi chiede da barbari for the course new what's up about we tell my daughter tell my cover tell my step in your long connie who elevation be anonora boba i really love you so much and cibola you so you so intelligent they just use money to get famous they use the boy i mean the boy they use him very well and a lot of people love him i don't know what you want to say to my japan emma japan wow to my job like a break to i mean to make a problem with that it was a bit of a meal we deal of serious so yeah when you tell you she don't have to tell she knows she can be called she can be called the call and you advise me checking my shop here can you cash it shop oh so full public ho rimando a te ho qua loro ho fatto 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 ci sono non ci sono ci sono questi qui ci sono è è faccio non ci sono ci sono che la ma di la lì di a shì se passate a toripe so she anything ha poi baghia so she baghia lish baghia leonone baghia bikini abrucia legonina you know the city's name l'angosicato malone si e bcmb a legge legge i want to man join together in please make sure you do something okay be careful dating site a movie she's actually because this is site come on the next knee really let me once a program call then we don't want to show you trying it is not my long been your dating you what's in it my channel if another yellow just my face she should see it to come about so we won't go after people she jealous of their clinical we know jealous of you yes and we don't feel a jamie move back at the army for the more people a coco combo so long machine only that you talk about she told you talk about she at least people was me and could ninja keep me near cities to continue to say the truth all right because I feel pain the Lord allow me to suffer many things so that when people suffer when they go through the same similar things I will know how I feel the pain what they do to me then I know how it is for somebody to want to give you little I won't be by me any one for any of funny you to body for funny lady yes you did you any I will leave off for lady yes you will let you go cool she can offer for latissi amy kou joselle koukouj abila bala bati o shegye abye sussu come un bambino conico gioco che credo conico social tommasso senator quamma pico logbe come a pay for didier me let's go back with this is a senator omar out of it is otari buff are you getting me terrible ma che ne haciva pa mome tabanico tabati in giallo teni bordeva di da si toga ti da muro buon da si baco a voi mamma trite mo ma chien jojimin bo tingba mi tomma femma matite emilia ma si va con bo te ma come fè mamma dita vittorio mamma dalè vittorio o lò qua many times on ti won me e mini mamma bebe su tibè as you get to what i'm saying e mini mamma bebe mi pull it down ri payon kofè pull it down i won him overdose issue over those i tuoi dimostrare fino da più di volte dalle non bene ma dire ma dire che l'edice on Egimento E N N N N N N N N la collega fa oggi è verano toberi se io ti per 4 years all right and he said is everything four years ago you can later on tell them flow data but do it right so that you can flow you can go far to me pray for momico she will mean that he pray for momo you coach for inocchio 3 into particuazione monoma just to say me wish you bad would at the same time me she did a comment she broke up for tu non appunto neri facolti non la o e walla benoni ma si solati ribuku in with love all right non bono jamu saite con let me check on site oh no 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 you want to not Harparda no 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 on hachissà la mia città ma città ma città ewe 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 che li ha i jimiter qui che c'è un modo più e 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